Andrea Pucci ha deciso di rispondere a Tommaso Zorzi dopo le accuse di omofobia e ha scelto di farlo in modo molto velato. Il comico milanese, infatti, sul suo profilo Instagram avrebbe fatto riferimento alla polemica che sta spopolando sul web, e che vede protagonisti lui e il giovane influencer, che si è sentito offeso da una battuta fatta dal comico nel suo show Il Meglio Di, con un commento indiretto ma pungente. In una delle sue ultime stories, infatti, l'ex volto di La Sai l'ultima ha pubblicato un'immagine che lo vede sul palcoscenico, davanti a una platea piena di gente alla fine di un'altra replica del suo spettacolo, e ha accompagnato la foto con una frase che parla chiaro, anche stasera abbiamo lavorato con tanto di cuoricino alla fine. Quella di Pucci è una chiara e sottile frecciatina a Zorzi e al polverone che ha sollevato nonché una dimostrazione del fatto che il suo pubblico continua a seguirlo, e sembra proprio non pensarla come il giovane influencer. Cosa è successo tra Tommaso Zorzi e Andrea Pucci? È successo ieri che Tommaso Zorzi ha accusato Andrea Pucci di essere ignorante e omofobo. Il tutto è nato dal fatto che un'amica dell'influencer gli ha rivelato che Pucci nel suo ultimo spettacolo il meglio di affatto una battuta su di lui, i tamponi se sei fortunato te li fanno in una narice, se sei uno stronzo in due, se sei ancora più stronzo in gola, se sei Zorzi in silo. Zorzi non ha buttato giù il rospo ma si è fatto sentire attaccando Pucci, accusandolo di omofobia chiedendogli delle scuse che, però, non sono ancora arrivate. Ti ringrazio per aver guardato tutto il video se ti è piaciuto metti mi piace e iscriviti al canale, e attiva la campanella delle notifiche per rimanere aggiornato nei prossimi video grazie.